La bellissima cantante Elodie torna a sorprendere il popolo dei social con un nuovo scatto. Dal vestito alla posa, tutto è da infarto. In questi giorni nel mondo dello spettacolo l'argomento principale di cui si parla è ovviamente il talent di Maria De Filippi, Amici, visto che domani sera andrà in onda la finale. Proprio da questo talent è uscita Elodie, cantante romana che ha partecipato al programma per giovani talenti cinque anni fa, vincendo il premio della critica e il premio RTL 102.5, ma arrivando seconda nella classifica finale dietro a Sergio Silvestre. Da lì è partita una grande carriera musicale per lei, che ha conquistato anche il popolo dei social grazie anche alla sua bellezza e sensualità. Queste ultime due qualità elencate le mette in evidenza nell'ultimo post condiviso su Instagram. dove fa impazzire i followers con un vestitino da infarto. Voce particolare quella di Elodie, che unisce sensualità e intonazione, e che è riuscita a conquistare il pubblico italiano anche grazie ad una bellezza mozzafiato. Oltre a belle canzoni infatti, sui social condivide anche delle foto da infarto che lasciano i followers a bocca aperta. Anche oggi pubblica un nuovo scatto che la vede inginocchiata a terra con i capelli bagnati e un po' arruffati, con indosso un vestitino con dei buchi sui lati che lasciano intravedere delle forme da rimanere senza parole. Nella descrizione mette un emoticon di una scimmietta, mentre il numero dei mi piace continua a salire, superando quota 66.000. Centinaia sono anche i complimenti che arrivano dai commenti sotto al post. Grazie a tutti.